buongiorno 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 sei sicuro che l'indirizzo è quello giusto sì mi scusi si lavora qua il signor matteo villani no non lavora più qui l'hanno trasferito l'hanno trasferito andiamo no che qua c'è spiumano guarda e sergio è finito in copertina su un giornale ma scusi che che c'entra l'into pubblicità il dottor cudicini è uno dei nostri migliori clienti e clinton presenzerà la premiazione sta giacca è scaduta 12 0 5 per prezzo che è scaduta 1.205 euro ma che sei matto ma c'è compravo due cisterne dei frascati già io poi a premiazione ci vado con due fiaschi al collo a c'è e posso fare qualcosa per voi sì io avrei bisogno di un abito per una serata i vips eh prenda la cosa più cara che c'è ah qua caro caro e caro diaretta a me dove sono i saldi i saldi ai grandi magazzini di fronte guardi la racista a me basta un abito scuro ed elegante sì qualcosa troviamo grazie i saldi che amarezza ma che c'è sta nei guardi entra sto negozio ma che è al lattico quante pare piccola no ti sta bene questa è di moda proprio il commesso si è preso alla fine i saldi ha cacciati è scippato uno dei cugini di campagna si li mette a posto guarda che nell'intervista dice che sergio indossa solo griffe di alta sartoria ecco appunto cesare trova le griffe le chi le griffe come ne sono fatte le griffe aia si è incastrata lo fanno questa basta fare su e giù sei sette volte questa si è cosa che dico scusate che scusate si è incastrata la zip mica è una figura mancano il vizietto guarda che sergio nell'intervista dice che dimostra molta tolleranza nei confronti delle minoranze l'unica cosa che mi dispiace va bene è che il commesso ha pensato che stava a fare roba con un cesso come te senti come te stanno piuttosto che ne so che ti pare a me mi pare bene prova a piegarti ci fai flessione vai e mo tanto pure guarda come è grosso mi toccherà pagarli ma che sei matto lascia fare adenzi grazie arrivederci 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 pronti andiamo va ecco c'è come non capisco che vergogna chi l'avrebbe mai detto